La nuova ESPAS può prevedere il sistema di parcheggio assistito semplificato. È possibile attivare questa funzione tramite il pulsante sulla console centrale. La spia dei contattori si accende e viene visualizzato lo schermo multifunzione. Nel menu, selezionare il tipo di parcheggio desiderato, perpendicolare, parallelo o diagonale, quindi confermare la manovra. Azionare le spie degli indicatori di direzione per il lato desiderato. Se la velocità del veicolo è inferiore a 30 km orari, i sensori a ultrasuoni del sistema rilevano e identificano le aree di parcheggio disponibili. Una volta individuata, l'area viene visualizzata sullo schermo multifunzione e identificata dalla lettera P finché non viene visualizzato il messaggio di arresto, accompagnato da un segnale acustico. La manovra viene quindi delegata al veicolo e il conducente non dovrà compiere alcuna azione sul volante. Il conducente dovrà tuttavia selezionare la marcia, controllare l'acceleratore e i freni e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo multifunzione. Il conducente inoltre può utilizzare il parcheggio assistito classico. Il conducente viene avvisato al termine della manovra quando la spia con la lettera P sul quadro della strumentazione si spegne, si avverte un segnale acustico e viene visualizzato il messaggio Manovra terminata. Per lasciare un'area di parcheggio, attivare la funzione Selezionare il tipo di parcheggio richiesto, quindi intervenire sulle spie degli indicatori di direzione per il lato desiderato e confermare la manovra. Selezionare la marcia, controllare l'acceleratore e i freni e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo multifunzione per lasciare l'area di parcheggio.